Vigilia della semifinale di gara 1 meglio tra Sebastiano Ireti e Leo Filkem Rosetta Andrea Pastore domani parte una serie difficile ma al tempo stesso molto gratificante per voi perché vi siete meritati assolutamente questa questa semifinale gara 1 che si giocherà a Rieti nello storico Palace Ojourner contro probabilmente la squadra più forte della serie B Sì come dici tu siamo arrivati al momento clou della stagione ce lo siamo meritato veramente tanto abbiamo lavorato duro tutto l'anno per arrivare fin qui quindi certamente non vogliamo mancare l'appuntamento la partita sarà durissima l'avversario insomma si commenta da solo pieno di giocatori livello superiore e dalla parte nostra posso dire soltanto che bisogna andare lì tranquilli e giocare partita dopo partita ne abbiamo due una domenica una martedì bisogna pensare partita dopo partita per cercare di fare il meglio e provare a rubare una delle due partite Ovviamente fa voti del pronostico per Rieti ma Rosetta d'altro canto viene da un filotto di sette vittorie consecutive il 3 a 0 soprattutto Cassino che ha galvanizzato possiamo dire anche tutto l'ambiente Sì sette vittorie tra l'altro le prime quattro arrivate quando io ero fuori dal campo quindi la squadra c'è pronta e non poteva esserci un momento migliore per iniziare a ingranare questa marcia e speriamo di cambiarle per portare a casa insomma un bel risultato